Siamo con Pietro Di Lorenzo, reduce peraltro dalla brillantissima edizione del Investing 2005, siamo tuttavia a IT Forum Winter 2015. Anche qui, come la manifestazione che hai organizzato tu, il successo è notevole e pubblico, sale particolarmente piene. Come reputi questa risposta e questo interesse mostrato dai trader e dagli investitori italiani per questa nuova iniziativa a Milano? Ritengo sia un ottimo segnale, in un momento così delicato anche per i risparmiatori, sai che in tutte le prime pagine del giornale adesso si parla di bancari, di problemi con le obbligazioni subordinate eccetera eccetera. C'è finalmente la consapevolezza che la cultura finanziaria è l'arma migliore per difendersi da queste fattispecie piuttosto complicate da seguire. Quindi ritengo un evento come questo, non faccia che migliorare la consapevolezza degli investitori privati e dunque ben venga questo successo, è un buon segnale che spero abbia un seguito anche nel 2016. Dal tuo punto di vista, per quanto hai potuto notare in queste ore, quali sono i temi più caldi che interessano veramente gli investitori? Non so, l'euro-dollaro piuttosto che le prospettive del nostro Fuzzimip. Quali sono i temi più caldi o è l'interesse ancora per le notizie degli ultimi giorni legato alle banche a dominare i discorsi degli investitori? Sì, io adesso ho fatto una sessione di formazione in ala trading, quindi era una parte un po' operativa, la domanda che c'è stata di più è sul ribasso dei bancari, quindi banca cari, GMPS, che fare, c'è un portafoglio a prezzo di carichi alto, come comportarmi e questa è stata la prima, quindi azioni in portafoglio in sofferenza. Seconda, cosa fare nel 2016? La domanda tipica è quale asset class dove puntare e quali potrebbero essere le idee migliori. E la terza, la più dolorosa, temo per le mie obbligazioni subordinate, che fare, mollare tutto, rimanere in sella? E questa è stata la domanda anche un po' più complicata da gestire, perché sicuramente una fase di panico come questa è bene riordinare le idee, non prendere decisioni sulle motività, ma essere ordinati nel ragionamento e ragionare a mente fredda. Grazie a Pietri Lorenzo, SOS Trader